Un agosto di affari come non si vedeva da anni nel capoluogo d'Abruzzo. Le presenze crescenti di turisti, culminate nelle ultime due settimane del mese, complici anche gli eventi della perdonanza, hanno fatto lievitare gli incassi di tutti i commercianti. Un agosto veramente eccezionale, sì, tanti, 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 tanti. Gente che è anche contenta di venire in questa città perché comunque adesso si comincia a vedere bene che è rinata in qualche modo, certo manca qualcosa, però è stata una bella perdonanza, bella poi veramente una delle più belle. Io in dieci anni, sono 23 anni, forse dieci anni fa una, ma è stata molto molto bella, bella organizzata, si vedeva proprio bene tutto, bella organizzata, bellissima, complimenti veramente. C'è stato tantissimo movimento e un afflusso di turisti mai visti, maggiormente dal nord Italia. Tra i servizi più gettonati dai visitatori, provenienti soprattutto dal nord Italia ed Europa, il trenino turistico, scelto per i luoghi e monumenti più significativi della città. Basilica di Colle Maggio, 99 Cannelle, San Bernardino e Castello. Prenotazioni full ed anche qualcuno rimasto a piedi. Rimanevano fuori in parecchi e le corse venivano prenotate dalla mattina alle dieci fino alle cinque e verso mezzogiorno già era tutto prenotato. Comunque è stato un successo in pieno, anche in quel periodo. Contenti e sono rimasti soddisfatti in su. Boom di vendita anche gli oggettistica ricordo. E cartoline, francobolli, magneti, comunque oggettistica come ricordo dell'Aquila. Un bel po' di turisti. Per fortuna si è rivista comunque la piazza piena e speriamo di rivederla presto.